benvenuti oggi siamo ad Alfonsine in via Longo per visitare l'appartamento pop questo modernissimo appartamento tutto disposto al piano terra è in una tranquilla zona residenziale fronte parco e dispone di due porzioni di giardino indipendente una sul fronte dove abbiamo il posto auto ed una sul retro qui troviamo una corte più appartata dove è posizionata la casetta ripostiglio e si può anche stendere comodamente sarà rapidissimo raggiungere i servizi essenziali il supermercato la farmacia la scuola le poste sono al massimo a cinque minuti l'ingresso è sulla zona giorno un attualissimo ambiente open space con un bellissimo impatto visivo dai dettagli attualissimi ed accattivanti ogni centimetro è stato sfruttato al meglio c'è lo spazio per il grande divano e la tv una zona per pranzare comodamente in quattro e da vista una bellissima cucina con banco colazione eccoci alla zona notte le camere da letto a disposizione sono due qui vediamo la matrimoniale che affaccia sul retro dell'immobile la seconda camera è una comoda singola che ospita comodamente il letto ad una piazza in mezzo eccoci al bagno modernissimo finestrato ed attrezzato con un grande box doccia infine abbiamo il ripostiglio dove si è ricavata una comodissima lavanderia l'appartamento pop è un moderno appartamento a piano terra in un nuovo quartiere residenziale l'immobile di 94 metri quadri si compone di tre locali se volete fissare una visita potete contattarci al numero 0544 80462 per maggiori informazioni potrete inviare una mail a infochiocciola agenzieacontarini.it seguiteci su facebook e su instagram con tutte le nostre proposte a presto